Mentre uno dopo l'altro i paesi si blindano, chiudendo le frontiere, si scopre che la nuova e temutissima variante Omicron ha già fatto il suo ingresso in Europa, primo caso scoperto in Belgio e ora anche in Italia. Il paziente 1 è stato trovato in Lombardia, si tratta di un ingegnere campano di 40 anni arrivato a Milano per una visita medica, ma che non avrebbe avuto altri contagi in regione, secondo quanto fa sapere l'assessorato alla salute. Intanto la ricerca corre per capire se le 32 mutazioni della proteina Spike possono eventualmente bucare la protezione dei vaccini attualmente utilizzati ed emergono nuovi particolari sui sintomi causati dalla nuova variante sudafricana, stanchezza, mal di testa, prurito in gola, leggero raffreddore. Ha paura di questa nuova variante, l'Omicron? Senz'altro tutte le varianti fanno paura, sia Delta sia Omicron, senza altro. No, assolutamente. Come mai? Ma perché sono vaccinata, farò la terza dose a breve, quindi onestamente sono fiduciosa. Paura, paura no, però sono preoccupata perché comunque la situazione pandemica non sembra finire presto. Lei pensa che la vaccinazione possa essere un modo per sconfiggere questa variante? Deve, deve, deve essere, senz'altro. Determinante, sì, sì, assolutamente. Beh, sicuramente sì, più le persone si vaccinano, più le varianti non si sviluppano, credo. Poi non sono della materia, quindi non lo so.